l'eccitazione non è agitazione molti pensano che l'eccitazione sia agitazione quando sei eccitato respiri rapidamente, fai rapido, i movimenti sono veloci ma questo è lontano dalla realtà del tuo potenziale la verità è che posso stare eccitato e rilassato allo stesso tempo calmare la respirazione è il segreto essere cosciente del respiro e rallentarlo apprendere a stare con l'energia sessuale qui sta il potere altrimenti si pensa che l'attività sessuale sia rapida e che deve essere rapida e così si penetra velocemente, non ci si prende il tempo possiamo trovare il nostro ritmo possiamo creare la nostra esperienza sensuale e sessuale se vuoi sapere di più su questo tema e rimanere aggiornato iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per sapere quando carico un nuovo video e per ricevere una video lezione gratuita di 45 minuti per accedere al tuo pieno potenziale nella camera da letto seguimi e scrivimi sulla pagina instagram sol-livio grazie a tutti